Ciao, io sono Rob McQuack e quello che state guardando adesso è il tipo di video che mai e poi mai avrei voluto caricare sul mio canale YouTube. Uff, da dove cominciare? Andiamo con ordine e tagliamo la testa al toro. Preambolo. Io amo nascondermi dietro i copioni. Io adoro sceneggiare video perché mi permette di avere il totale controllo creativo della conversazione e allo stesso tempo, mentre rileggo i testi che ho scritto o interpreto alcune delle battute, mi rendo perfettamente conto quando sono diventato prolisso, logorroico, noioso, lezioso e di conseguenza diventa indispensabile spezzare il ritmo per inserire delle battute che evitino di farvi scappare in corso di visione. Inoltre, visto che a trattare la cultura pop qua su YouTube siamo in tantissimi e ci sono persone molto più brave, studiate, tecniche, preparate di me che hanno dei numeri infinitamente più alti, per distinguermi da loro, spesso e volentieri avere un video stage ed è di conseguenza con un copione, con un microfono che mi permetta di interpretare le battute, flexando i miei studi ho l'opportunità di distinguermi dai miei colleghi, dato che sono una persona che ha studiato edizione, recitazione, doppiaggio, public speaking, speakeraggio radiofonico e tant'altro ancora, per me è fondamentale offrirvi il contenuto più divertente, informativo e professionale possibile, nonostante abbia i mezzi tecnici del dopoguerra. Ma comunque, ora sono totalmente al di fuori della mia comfort zone, perché non ho un testo, sto andando a braccio e questo implica che io possa impappinarmi, prolungarmi in silenzi imbarazzanti, ripetermi, diventare inconcludente e continuare senza un vero e proprio filologico. Quindi armatevi di pazienza, cercherò di editare il meno possibile, ma laddove l'imbarazzo la fare da padrone dovrà intervenire, e ora come ora preparatevi a questo video che non so neanche quanto durerà, non metterò grafiche, non metterò niente, effetti sonori, immagini, probabilmente un qualcosa in sottofondo correlato all'argomento, e sarà più indie, più raw, crudo possibile nei limiti di YouTube. Mentre stavo scrivendo la recensione di The Whale, di Darren Aronofosky, qualcosa è scattato, ed è un qualcosa che era scattato prima di ogni altro momento in sala, durante la visione. Chiedo scusa alle persone che erano lì in sala con me, che possono avermi visto piangere, sentito singhiozzare come un bambino, e soffiarmi ogni due per tre il naso, so che non deve essere stato molto poetico in corso di visione, ma non riuscivo proprio a trattenermi. Inizialmente la recensione di questo film sarebbe dovuta essere molto simile a quella degli Spiriti dell'Isola, quindi una puntata di Capsule Pop, dove io vi interpreto vocalmente un testo da me scritto, e in un minutaggio compreso da 1 a 5 minuti vi dico le mie opinioni sul film. Ma mentre ci stavo lavorando, come vi ho anticipato prima, sentivo che non bastasse, che qualcosa non andava. E questa sensazione ha continuato ad accompagnarmi anche dopo che avevo rimaneggiato il testo, o che avessi cambiato interpretazione e intonazione durante l'incisione dello stesso. E ripensando alla scena d'apertura di The Whale, ho capito che cosa non funzionasse. La storia del film ruota attorno al personaggio di Charlie, interpretato da Brendan Fraser, che è un insegnante di lettere che vive come una sorta di eremita, un po' un'ikikomori, all'interno del suo appartamento, perché soffre di un grave stato di obesità. Infatti le persiane sono sempre chiuse, le tende sempre abbassate, c'è un'unica eccezione nel film, ma ha un simbolismo talmente delicato che non ve la spoilerò qui. E vengono a trovarlo Liz, un'amica infermiera che si premura di portargli il cibo e di controllare come sia il suo stato di salute. E ancora, Dan, il ragazzo delle pizze, che però non lo vede mai in faccia e si limita a lasciargli la pizza davanti alla porta di casa, ritirando i soldi dalla cassetta delle lettere. E poi, beh, la sua famiglia lo sente principalmente tramite telefono, messaggi, rimanendo aggiornato col mondo solo ed esclusivamente tramite internet e social network, Charlie rifiuta il contatto con le altre persone, un po' perché teme lo schernimento, un po' perché si vergogna, anzi odia proprio la sua forma fisica e di conseguenza preferisce non mostrarsi agli altri. E quando tiene lezioni ai suoi studenti lo fa online con la scusa della webcam rotta. Charlie non si mostra. Palesa la sua voce, il suo cuore, la sua attenzione. Nonostante il pubblico lo veda, tutte le altre persone al di fuori delle dinamiche familiari o della sua cerchia ristretta, non sanno che sembianze abbia. Ed ecco perché io questa volta ho sentito il bisogno, la necessità di mostrarmi, di metterci la faccia e di arrivarvi nel modo più autentico possibile. Perché se è vero che Capsule Pop è un format che vira maggiormente al podcast, anziché ai video tradizionali, lo è altrettanto che l'unico motivo per cui questo format nasce è l'esigenza di velocizzare i tempi di minutaggio ed editing e produrre contenuti con più frequenza anche su YouTube, visto che il 90% del mio tempo lo passo in live con voi su Twitch. E proprio perché mi vedete e interagite con me quotidianamente sul sito Viola, e proprio perché l'ultimo video pubblicato sul sito rosso, grazie di cuore, è stato anche quello visto di più nel minor tempo, mi riferisco alla recensione di Ant-Man and the Wasp e Quantumania, vedo nel mio faccione cicciopeloso dall'inizio alla fine, questo significa che nel 2023 Rob McQuack non ha gli stessi problemi del Charlie the Whale. Se riusciamo a abbracciarci per scambiare quattro chiacchiere e scattare una foto insieme ai meet and greet, alle fiere del fumetto, se riempiamo le piazze a Luca Comics e diventano gremite di persone che vogliono solo trascorrere qualche minuto del loro tempo con noi, se siete in tantissime da applaudire quando facciamo un Vicarob dal vivo sul palcoscenico, significa che il web per me è terapeutico e con buona pace di hater, trollini che in anonimato devono fare body shaming per forza di cose, per partito preso, convinti di farmi del male quando in realtà sotto questa ciccia ho sviluppato una scorza dura e gli insulti sin dai tempi delle scuole medie. Vuol dire che anche se ora non sono in una fase di risoluzione con il mio corpo, c'è tolleranza, c'è convivenza, c'è sopportazione, c'è un principio di accettazione. Ecco perché, di nuovo, grazie. Però The Whale mi ha fatto capire che determinate paure, fobie e insicurezze che ero convinto di aver risolto in adolescenza o anche tempo dopo, grazie all'aiuto dei familiari, amici, psicologi, in realtà sono ancora lì ed erano solo soppite. Io pianto tanto perché mi sono rivisto in Brandon Fraser. Per carità, io non sono in una condizione grave come quella di Charlie, che peraltro, ricordiamo, molti si sono preoccupati per lo stato di salute di Brandon Fraser, che già prima, per via di un'infortunio alla schiena, della depressione e quant'altro ancora, era arrivato a pesare parecchio. Questo non è assolutamente il suo aspetto, non è ingrassato per il ruolo, non è Christian Bale, anche perché le compagnie assicurative vedono veramente di cattivo occhio le celebrity che dopo una certa decidono di ingrassare molto o dimagrire ancora di più. Quindi no, Brandon Fraser indossa un make-up prostetico e una fat suit di 130 kg per farlo sembrare un uomo di oltre 300. E tutta la pesantezza, la fatica, il sudore, il dolore, gli affanni e i respiri sibilanti che Charlie emette ogni volta che prova a fare azioni quotidiane come spogliarsi, vestirsi, andare a dormire e quant'altro ancora, che rendono l'idea della pesantezza, anche e soprattutto a livello emotivo che l'uomo nutre verso se stesso, sono cose che in maniera minore, grazie al cielo ho avvertito anch'io. Ora mi vedete così, sono poco meno di 120 kg. In passato sono stato più di 150, molto di più. Così come sono stato anche molto di meno, ero sotto i 100. E questa condizione, e chi la prova, chi la vive lo sa, non ti lascia mai in pace davvero. Non è mai solo estetica, non è pigrizia, non è solo apatia, è un insieme di tanti fattori e ogni persona ha la storia. Quindi lungi da me generalizzare. Però quando ho visto il corpo nudo di Charlie trascinarsi sotto la doccia, anche se in una maniera molto, molto più esagerata, io ho rivisto il mio. Soffro anch'io di ginecomastia, anch'io ho il grasso sul petto, oltre al grasso addominale. Ho rotolini qua e là, ho le smagliature. Io mi vergogno ad andare al mare. Sono anni che non mi metto in costume da bagno, perché ho paura di quello che possano dire gli altri. Io provo disagio all'inizio anche quando ho una relazione e sto in intimità con qualcuno, perché immagino che se quel qualcuno mi vedesse nudo, magari non vorrebbe avere dell'intimità con me. Charlie diventa un punto d'arrivo. E non lo dico perché ovviamente miro a peggiorare la mia salute come la sua e arrivare, come ci viene detto da Lizza, la sua amica infermiera a inizio film, ad avere un'aspettativa di vita di pochi giorni, perché rifiuta l'intervento medico, il ricovero e le cure ospedaliere. Chiaramente io sto combattendo quotidianamente, soprattutto per una questione di salute e in seconda battuta anche per una questione di gratificazione personale, perché chiunque vorrebbe, non dico trovarsi bello, ma quantomeno accettabile e tollerabile ogni volta che si specchia. Ma Charlie è una cosa che a me manca, manca tanti di voi e manca tantissime persone in questa società. E ce l'ha nell'interpretazione di Brendan Fraser, perché tutto quello che di Charlie arriva in maniera pesante, come il ribrezzo, il disgusto per se stesso, la vergogna, l'imbarazzo, diventa incredibilmente leggero nel suo tono di voce caldo, sua dente, amorevole, nei suoi sorrisi che non risparmia nessuno, nello sguardo dolce. Perché Charlie, anche se odia se stesso così tanto, in maniera direttamente proporzionale, crede ancora che le persone siano meravigliose e che il mondo non possa esistere senza amore. Ed è una cosa splendida, un valore incredibile. Da qui anche l'assonanza con il titolo del film, The Whale. C'è un tema che viene letto a più riprese, una relazione. Ogni volta che Charlie teme di morire, sente il bisogno di rileggere quel tema, forse anche per calmarsi laddove il male fosse psicosomatico. Ed è una relazione di Moby Dick. Moby Dick viene visto come un mostro nel romanzo, ma man mano che la lettura prosegue. Ci si chiede se i mostri non siano coloro che girano la caccia, gli umani, e che in realtà l'estetica sia un parametro superficiale per valutare qualcuno. La bellezza di The Whale è intrinseca proprio all'interno di questa struttura narrativa. Il fatto che il palazzo di Charlie, il suo appartamento, il suo castello, venga percepito come un rifugio. L'abbiamo già detto prima. Tende abbassate, persiane chiuse. Nessun contatto con la gente, al di fuori dei pochi amici stretti e familiari che vengono a trovarlo e interagiscono con lui. Infatti l'ingresso è una sorta di quinta del palcoscenico, non a caso The Whale. È lo screenplay di una rappresentazione teatrale, di una pierce teatrale. Il fatto che lui, in questo disordine, in questo caos, si senta comunque al sicuro, si senta comunque protetto, ma che a seconda delle circostanze, del non avere la forza di uscire, di inseguire e proteggere le persone che ama, di provare a rimediare i suoi errori, di colmare quelle lacune a livello emotivo, psicologico, quei solchi che lui ha nel cuore, provando a riprendere in mano la sua vita, trasformano quest'appartamento in una prigione, in un tugurio, che il regista comprime in una gabbia in quattro terzi. E questo contribuisce a rendere quest'appartamento che sembra effettivamente generoso sul fattore della metratura, ancora più piccolo, ancora più costringente, ancora più claustrofobico. E la fotografia, da questo punto di vista, esalta in particolar modo la struttura dell'appartamento. Ci sono sempre delle luci fredde artificiali, dei mezzi toni. E l'appartamento, che è anche l'unica location del film, l'abbiamo definita disordinata, sporca e soprattutto buia, cupa, assume connotazioni differenti solo in una stanza. Una stanza correlata a un grande affetto di Charlie, un affetto che non c'è più. E in quella stanza vige l'ordine, in quella stanza c'è la pace e addirittura una finestra che non ha né tende né persiane e che permette alla luce naturale di entrare. Quello è il tassello che permette a Charlie di poter interagire con la parte più bella di sé, un affetto perduto. Una parte più bella che protegge, con cui ha paura di misurarsi, perché probabilmente quell'affetto sarebbe scontento di vedere quanto Charlie si sia trascurato nell'arco degli anni. Ed è per questo che ogni volta che prova a entrare in quella stanza la porta non si apre, la chiave gli cade, la sedia a rotelle non ci passa. Il film è pieno di simbolismi, vieno detti solo alcuni, altri sono dettati anche dalle luci, dalla fotografia. Noi vediamo alcuni scorci di quello che c'è fuori dalla porta di Charlie, piccole immagini di mondo. E ogni volta che un personaggio fa irruzione a casa sua, possa essere la figlia Ellie, l'ex moglie, l'amica Liz, il predicatore religioso Thomas. Fuori il tempo peggiora. Il clima diventa sempre più cupo, tempestoso, ed esplode in un temporale, perché quelle persone ogni volta che entrano portano anche i loro problemi. Ed è assurdo che l'unica altra location che viene vista, ed è un ricordo, ed è quello di un oceano azzurro, sotto a un cielo luminoso e soleggiato, sia rappresentato per l'appunto da colori caldi, luminosi e allo stesso tempo sensazioni positive, favorevoli. Ed è bello che il rumore delle onde che si infrange contro gli scogli, dell'acqua che arriva a riva, sia anche un elemento che richiama l'habitat della balena di Moby Dick, di The Whale. Il cast di comprimari di questo circo folle di personaggi assurdi funziona con e senza Charlie, e anche questa è una cosa che ho apprezzato davvero tanto. Hanno tutti due ruoli abbastanza macchiettistici e molto incisivi, anche perché il film butta dentro al calderone una valanga di temi sociali importanti, l'omofobia, il fanatismo religioso, il body shaming, i social network, il pregiudizio. Ci sono tantissimi elementi importanti in The Whale e molti potrebbero restare delusi dal fatto che vengono a malapena scalfiti, però credo che sia una cosa intenzionale trattare questi discorsi con superficialità, perché il focus della storia sono le emozioni di Charlie. Il rapporto che Charlie ha con Ellie, interpretato da Sadie Sink, la Max di Stranger Things, di lei sentiremo parlare molto più di Millie Bobby Brown, l'ho detto, è veramente bello, naturale, realistico, plausibile, e il modo in cui lui continua a porgere l'altra guancia, il modo in cui poco per volta viene sempre più scavato a fondo e saltano fuori le vere motivazioni dello stato di salute di Charlie, portano lo spettatore in un di lacrime. Io credo che non tutte le persone siano in grado di empatizzare e capire determinati tipi di dolore. Certo, le emozioni sono a portata di tutti e quindi penso che una persona sana, con un ottimo rapporto con la propria estetica, la propria salute, il proprio corpo e i propri cari, possa comunque commuoversi per mera empatia, sensibilità, lo capisco. Allo stesso tempo, credo che solo chi ha provato determinate cose e abbia un certo tipo di bagaglia esperienziale, possa somatizzare alcune delle cose che accadono. Quando prima parlavo della sofferenza di Charlie, mi riferivo proprio al fatto che lui tossisce, ansima, sputa, vomita, piange, urla, soffre, ansima, affanna. E paradossalmente sono proprio gli sforzi di Charlie, la colonna sonora portante del film. È stato fatto un ottimo lavoro col sonoro, col missaggio e la colonna sonora è presente solo a spizziche e bocconi e probabilmente solo nel finale esplode veramente. È una colonna sonora molto asservita alla sceneggiatura, essenziale, proprio come lo è la regia, che può sembrare statica, ma in realtà nasconde un bel po' di sorprese. Vorrei dire qualcos'altro di forte e impattante per convincervi a vedere The Whale e probabilmente questa è anche una delle peggiori recensioni che abbia mai portato sul canale. Sono tre giorni che sto provando a inciderla, sono state giornate abbastanza toste in cui ogni volta capito quello che volessi fare, mentre giravo piangevo. Io gradirei che voi andaste al cinema a guardare The Whale, a prescindere dal motivo per cui lo facciate. Credo che sia una di quelle storie che a discapito dell'età che avete vi permette di entrare in contatto con una parte di voi e di acquisire maggiore consapevolezza di come utilizziamo le parole, di come ci rivolgiamo agli altri, di come guardiamo al prossimo e soprattutto di quanto, stando attenti ai dettagli, delle cose implicite magari nascoste in un sottotesto tra le righe non dette, possono effettivamente lasciare qualcosa di importante a qualcuno. The Whale è una storia d'amore, nonostante si pianga, si soffra e in alcuni contesti si riesca anche a strappare una risata o due. The Whale è una storia di grande amore nei confronti della vita, del prossimo e soprattutto è una storia che restituisce speranza. Una speranza che Charlie probabilmente aveva deciso di abbandonare per inseguire un altro tipo di vocazione sempre correlata all'amore. The Whale può renderci persone migliori o almeno è quello che spero faccia con me.